La Commissione europea ha respinto il parere negativo del Comitato per i medicinali ad uso umano dell'EMA, riammettendo di fatto il farmaco Traslarna, un farmaco essenziale per i malati affetti da distrofia muscolare di Duchenne. Mi sono occupato da subito della vicenda, sollecitato da genitori e da associazioni ed insieme abbiamo vinto questa battaglia, grazie anche all'aiuto essenziale dell'eurodeputato Fabio Massimo Castaldo che si è subito mobilitato presso le sedi europee dopo il mio sollecito. È davvero una bella notizia.